Marco, intanto siete reddici da questo bel derby con il Capolona Quarata, dove sicuramente l'applauso più grande va fatto al pubblico di tutte e dure squadre. Assolutamente sì, Antonio, è stato un derby meraviglioso, pubblico entusiasmante, caldo da ambo le parti, una tribuna gremita come credo a Capolona non capitasse da tantissimi anni, ma anche a Subbano ovviamente, è stato veramente partecipato, due tifoserie ovviamente avversarie, però con i modi giusti, con i modi dovuti, è stata veramente una partita, una domenica di sport veramente bella, infatti questo girone, questo girone di prima categoria già dall'anno scorso, che è proprio cresciuto tantissimo per intensità e tutto il resto, ha fatto manifestare insomma la maturità del pubblico. Assolutamente sì, ti posso dire che sto vedendo un campionato di prima categoria sempre più alto dal punto di vista tecnico, che quest'anno credo sia uno dei più bei campionati degli ultimi dieci anni, prima categoria, ma ti posso anche dire che le tifoserie sono cresciute in modo esponenziale, quindi finalmente si va la domenica o addirittura il sabato quando molte società chiedono in anticipo, si trovano stati gremiti, si trovano tifoserie partecipanti, si trovano tante persone che scaldano l'ambiente e per il movimento direttante questo qui aumenta la base fondamentale. secondo me è indispensabile per poter permettere alle società come la nostra, ma come tante altre, di poter proseguire, di poter creare interesse generale, di poter anche attirare i ragazzi poi dopo alla squadra. Il campionato, siete primi in classifica, però in questo momento quali pensi possono essere le vostre dirette concorrenti? Ma guarda, siamo primi in classifica, però siamo veramente all'inizio, sono tre partite, quindi abbiamo fatto tre bei risultati, tre volte uno a zero, quindi significa anche che la squadra ha una certa maturità. È presto ovviamente per dire siamo primi secondo me, siamo un gruppo di squadre molto forti là davanti, per citarne alcune sicuramente posso dire la Sansovino, posso dire il Bibbiena, ma anche il Rasina che abbiamo visto qui in Coppa mercoledì scorso, sono compaginate tanto importanti, ma non voglio con questo dimenticare in realtà come Valdichiana, Montagnano, Alberoro che secondo me faranno sicuramente un grande campionato. Un campionato molto equilibrato, secondo me si deciderà per gli episodi e per i dettagli. L'importante è che il gruppo è ben assortito sotto tutti i punti di vista, noi abbiamo avuto modo di parlare con alcuni vostri giocatori, sono dei ragazzi davvero eccezionali, nei prossimi giorni le pubblicheremo queste interviste, è una cosa bella che c'è tanto entusiasmo. Ma guarda, riguardo alla Rosa ti devo dire che ti confermo le cose che ci siamo detti l'ultima volta che ci siamo incontrati, nel senso che la società è estremamente contenta della rosa messa a disposizione del mister, contenta non soltanto da un punto di vista tecnico ma soprattutto da un punto di vista umano. Nel cercare di allestire la rosa di quest'anno siamo andati a prendere quei calciatori, quei giocatori che mettessero i valori, mettessero la cultura del lavoro, l'impegno prima di ogni cosa, perché poi dopo il dilettante è dilettante come targhetta ma in realtà ha un impegno quasi abbastanza importante, adesso bisogna pensare al Tegoleto, quest'avversario come te l'aspetti Domenico? Il Tegoleto mi aspetto una realtà molto molto forte, lo testimonia dei risultati anche recenti che ha fatto battendo una compagine come il Biceo Maggio che è sicuramente una squadra molto molto forte e molto ben attrezzata. Tegoleto ha secondo me negli uomini d'attacco il suo punto di forza, una squadra ben preparata, un allenatore giovane che credo abbia delle, non credo sono convinto, abbia delle proprie idee di calcio e dei cerchi di attuare durante tutti gli allenamenti, quindi la partita di domenica sarà per noi una gara molto dura, un banco di prova importante perché insomma veniamo da tante vittorie consecutive e quindi anche l'aspetto psicologico nostro dovrà mantenersi su livelli molto molto alti. Quando ci sono programmi importanti come i vostri serve un buon serbatoio che rifornisca la prima squadra e in questa direzione come valte in questo momento la formazione Juniors? Guarda, della formazione Juniors siamo estremamente contenti, al di là dei numeri delle classifiche che dopo due giornate abbiamo tre punti, una partita vinta e una persa, ma al di là di questo ti posso dire che è un cantiere aperto perché ovviamente la Juniors è bacino anche da dove la prima squadra attinge e poi dopo i giovani anche più interessanti, siamo contenti perché abbiamo lì un allenatore come mister Marco Bacci che per noi è una garanzia dal punto di vista sia tecnico ma anche della tenuta proprio psicologica delle ragazze e delle persone, sono convinto che la rosa della Juniors sia una rosa competitiva e sono convinto che quest'anno faranno un gran bel campionato. L'anno scorso proprio fino all'ultimo hanno tentato proprio di giocarsi la prima posizione e poi magari c'è stato un certo cedimento, ecco quest'anno? Devo dirti che sono due anni addirittura che ha fatto risultati incredibili, purtroppo ha avuto delle compagini molto molto forti che hanno corso di più, quest'anno io credo che una volta trovata la quadratura della squadra la rosa del sul piano sia una rosa molto competitiva, come così come per la prima squadra non posso, non è poi nel mio stile spendere pronostici, spendere proclami, però posso dirti che secondo me se la giocherà su tutti i campi del sabato. Bene, io ti ringrazio, l'appuntamento per i nostri amici di Spartacolo Metro Zero è qui a Subbiano, domenica prossima nell'assisterà Subbiano Tecoletta. Grazie Antonio. Grazie a te e buona volta. Grazie a te. Grazie a te.